Ciao a tutti, come farlo pentire di averti lasciata? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramiso. Allora, come farlo pentire di averti lasciata? Ci sono alcune cose che devi tenere bene in considerazione. La prima cosa che devi tenere in considerazione sono le cose che non devi fare. Quello che non devi fare è inseguire, inseguire, perché se tu insegui ti dimostri zerbina, ti dimostri bisognosa, ti dimostri affamata. E ricordati che in amore chi è affamato muore di fame, muore di fame. Quindi la prima cosa in assoluto che tu devi fare è una cosa semplice che si chiama no contact. Non devi contattare assolutamente, lui ti ha lasciato, neanche ci ha chiarimenti, non servono i chiarimenti. Non hanno nessun senso i chiarimenti, devi lasciarlo andare. Questo far sì che si innescheranno dei meccanismi che possono avvenire nella vita di una persona, che sono meccanismi di regressione. E quando si innesca nei meccanismi di regressione, quando per qualche motivo, e prima o poi i motivi ci sono sempre, perché nella vita tutto cambia, tutto è impermanente, nella sua vita le cose andranno male. Andranno male o da un punto di vista sentimentale-affettivo, o da un punto di vista emotivo, o da un punto di vista, da qualche parte, le cose andranno male. E allora si innesca un meccanismo di regressione, per cui verrà a cercare te. Cioè, proverà un pentimento. Un pentimento è un rimorso per averti lasciata, è un pentimento per rimpianto di non averti cercata. E questo scatterà automaticamente se tu non l'avrai cercato. E vivrà pure il senso di colpa. Poi, la seconda cosa che devi fare, è una cosa fondamentale, oltre a fare il no contact, devi praticamente prendere cura di te stessa, coltivare soprattutto la tua autostima. Coltivare l'autostima è fondamentale per riprendere il gioco, riprendere in mano le carte del gioco. E quindi prendi cura di te stessa, iniziare a... Beh, se non lo fai, prendi cura, palestra, dieta, nuovo look femminile, sensuale, nuovo taglio di capelli, insomma, rinnovarti! E altra cosa fondamentale, iniziare a frequentare altre persone. Iniziare a frequentare... Allora, dipende qua, quello che tu cerchi. Se cerchi l'aspirina, devi andare in farmacia, non dal macellaio! Il macellaio non ti dà l'aspirina. E quindi vuol dire che se cerchi una persona intellettuale, dovrai frequentare corsi, dovrai frequentare cose di questo genere. Non potrai frequentare ambienti, diciamo, la balera di terza mano, diciamo, della periferia, che ne so, della città dove abiti. No, lì troverai solo uomini sposati in cerca di tappare dei buchi, fondamentalmente. E quindi se non vuoi essere un buco da tappare, vatti a cercare altre situazioni. Questo è importante. E poi via social posta foto, non foto di rancore, di rabbia, ma foto che fanno capire che tanto ti sei rinnovato al nuovo look e che hai conosciuto persone nuove e che stai bene fondamentalmente, ma non eccessive, come al solito, insomma, la routine quotidiana. Questo è fondamentale per ottenere i risultati che vuoi ottenere. Questo è veramente fondamentale. Se tu non riesci a fare questo, sarà una fallita! completamente fallita e soffrirai. E invece, diversamente, gli genererai un forte pentimento, un forte senso di colpa. Sicuramente, devi solo fare come i cinesi che si mettono sul lago, sulla riva del fiume e aspettano che passi il cadavere dei nemici. Passerà! Passerà! Il cadavere, cioè il pentimento. Però, devi avere la forza interiore per farlo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!